The Tender Bar, il bar della speranza o delle speranze, ultimo film prodato su Netflix di George Clooney. Torna il nostro George Clooney dopo il suo fantasmagorico di Midnight Sky, chi solo scorda quel film dell'anno scorso, mamma mia che c'ho feca. E niente, questo film ha attirato la mia attenzione, la nostra attenzione, perché è stato nominato niente meno che Golden Globe per l'attore non protagonista. Cioè per l'Afflec che non sa recitare, il caro Ben Affleck, bene sì, è stato nominato come migliore attore non protagonista. E ovviamente ha attirato l'attenzione anche perché appunto c'è George Clooney alla regia, ma anche perché c'è un certo William Monahan come sceneggiatore, che è lo sceneggiatore premio Oscar per The Part, del famoso film di Scorsese, ma anche di Sin City. Insomma, c'era una certa autorialità, per quanto George Clooney, diciamo un po' titubanza a definirlo autore, dato che appunto anche in questo caso lui ha solo diretto il film, non l'ha scritto, quindi non è a tutti gli effetti un autore, però avete capito cosa ha intento, c'era comunque un certo interesse per questo film. Ebbene, di cosa racconta questo Tender Bard? Racconta della vita di questo ragazzino, seguiamo tutta praticamente la sua esistenza, fin dalla gioventù fino alla sua crescita, al momento in cui va al college e inizia a cercare lavoro, eccetera, eccetera. È un film che potremmo definire il classico film esistenziale, in cui abbiamo questo personaggio, appunto, questo ragazzino e seguiamo tutto lo sviluppo della sua vita, con una famiglia, un ragazzino, un personaggio, con una famiglia disagiata, le classiche famiglie disagiate americane, quindi su questo fronte niente di nuovo, e con un complesso dovuto all'assenza del padre, quindi un personaggio abbastanza tipico in realtà, che però è stato caratterizzato con una certa profondità. E mi è piaciuto anche come le dinamiche che legano questo ragazzino, quindi questo personaggio, alla sua famiglia vadano ad influenzare appunto la vita del ragazzino e la trama del film. E in modo particolare la dinamica che più va a influenzare la vita di questo ragazzino e quindi la storia del film sono quelle legate al suo personaggio e che lo legano appunto allo zio, che è il personaggio interpretato da Ben Affleck e alla madre, ma in modo particolare a quello dello zio. Il personaggio dello zio fa un po' da secondo padre per questo ragazzino, e infatti il nome, il titolo del film deriva proprio dal fatto che lo zio gestisce un bar dove lui dispensa consigli al nipote e quindi gli dà speranza, gli dà speranza per una vita migliore, dà speranza a questo ragazzino che si trova in una famiglia in cui sono uno più fallito dell'altro, nonostante siano comunque delle persone molto intelligenti e che lui si vede come l'unica speranza che ha questa famiglia e quindi si carica il peso di tutti i suoi familiari che sperano che lui possa riuscire in quelli, in ciò che loro non sono riusciti. E quindi lui sente questo peso, ma sente anche appunto questa assenza del padre che lui riesce a ritrovare nella figura dello zio, motivo per cui lo zio, il personaggio di Ben Affleck, ha una grande importanza all'interno della trama. Ed effettivamente, non ve lo nascondo, il buon Ben Affleck, nonostante noi lo prendiamo sempre in giro come l'Affleck che non sa recitare, è stato bravo, è stato bravino. Mi è piaciuto in questo personaggio, lui paradossalmente quando fa ruoli semplici gli riescono bene i ruoli semplici, perché alla fine lui non fa nient'altro, fa quasi se stesso, cioè fa uno zio di mezza età che fa appunto da secondo padre al nipote. Un ruolo che potrebbe benissimo calzare nella persona di Ben Affleck e infatti lui è riuscito in quel ruolo. Non siamo di fronte a mio parere alla prestazione da Oscar, infatti è il personaggio più che altro che è scritto bene, ha una sua profondità che è legata in modo particolare alla profondità del personaggio protagonista, quindi più che un suo background è la sua influenza sul protagonista, sul ragazzino che ha la sua efficacia, è per quello che il personaggio dello zio funziona, in funzione del protagonista, ma come così come tutti gli altri personaggi, tutti i personaggi secondari funzionano in funzione della loro dinamica con il personaggio del ragazzino. Ora, questo film può essere valutato da due punti di vista, ci sarà sicuramente lo spettatore che lo apprezzerà proprio per la scrittura, per la sua scrittura. Non è un drammone, non è uno di quei drammoni esistenziali, no. È un film esistenziale che gioca molto sulla psicologia, che gioca molto sui dialoghi, quindi è un film rivolto a una particolare fetta di pubblico che sicuramente lo apprezzerà proprio per la profondità comunque soprattutto del personaggio protagonista e per la sua psicologia derivata dalla conseguenziala della sua profondità. Ci sarà però una bella fetta di pubblico che non apprezzerà questo film, perché comunque è un film bello pesante in cui non avviene nulla di davvero concreto dal punto di vista materiale, quindi non vi aspettate grandi avvenimenti all'interno di questo film, è tutto molto ciò che avviene implicito, tutto appunto che risiede nella psicologia dei personaggi in modo particolare del protagonista, quindi è un film psicologico esistenziale che per fortuna non è alla stessa stregua del penultimo film di Clooney, cioè The Midnight Sky, ma ha un suo perché rispetto a quel The Midnight Sky che invece non l'aveva. Per il resto la regia di Clooney è didascalica, è molto semplice, lui utilizza molto appunto gli interni essenzialmente, non solo del bar ma anche delle abitazioni per dipingere la psicologia dei vari personaggi, è un lavoro molto semplice da fare, che però è riuscito, era un lavoro del resto il minimo sindacale che poteva fare il caro George, ma niente di più, c'è qualche dettaglio all'interno del film che vogliono essere quasi delle allegorie sempre legate alle dinamiche che uniscono i vari personaggi, ma non ci ho visto questa grande prestazione registica, è una regia accettabile, è abbastanza didascalica per un film del genere. E chiudo dicendo che c'è anche il mio caro Christopher Lloyd, ragazzi, che come ben sapete è il famoso Doc, grande Giove di Ritorno al Futuro, io ogni volta che vedo questo attore in un film impazzisco, perché sapete che quanto io sia legato alla saga di Ritorno al Futuro, e ogni volta che vedo lui, ma non solo, anche Michael J. Fox in un film, per me mi si sbrilluccicano gli occhi. Va bene, chiudo dicendo che questo è un film da sette, non posso andare oltre perché non mi ha trasmesso oltre ciò che il personaggio protagonista ci vuole trasmettere, e non è un film che mi ha tenuto incollato, però che mi ha comunque interessato fino alla fine, poi è un film che non dura nemmeno tanto, quindi... se vi piacciono i drame... no, ma non manco i drame, se vi piacciono i film esistenziali, psicologici, ve lo consiglio, altrimenti potete anche lasciarlo perdere. E io ho finito, alla prossima, ciao!